Musica Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video Con questo video contestiamo anche la richiesta di festa che mi ha chiesto di rivedere la piccola Freya Oggi per noi è un giorno molto molto speciale perché Freya compie due anni E per questo giorno speciale vi ho preparato una piccola torta che dovreste vedere che ho preso dal canale I smiley test, certo la forma non è proprio uguale perché non avevamo una tortiera rotonda Comunque vi lascio la ricetta nell'info box E ora come tutti i bimbi che si rispettino ci vuole la canzoncina Tanti auguri a te Tanti auguri a te Tanti auguri a Freya Tanti auguri a te Auguri amore Siccome questa bimba è diventata anche mamma il 12 di gennaio Vi lasceremo anche qualche foto dei cucciolini Speriamo che questo video vi sia piaciuto Vi salutiamo Mi raccomando seguiteci su tutti i social Specialmente su Instagram ci sono tante foto della piccola Freya dei cucciolini E noi ci vediamo la prossima volta Ciao Saluta Ciao 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 Ciao